buonasera buonasera a tutti bentornati 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 ciao a tutti allora aspetta che leviamo il commento ciao a tutti buonasera mi spiace se oggi pomeriggio sono saltate le live pomeridiane sono piccolo imprevisto e quindi chiedo scusa questa settimana facciamo soltanto la live questa sera e domani pomeriggio probabilmente non si sa ancora se riesco a farla chiedo scusa se sono un po assente negli ultimi giorni ma sto lavorando come un pazzo un progetto che poi prima o poi scoprirete detto questo che si fa stasera che si fa stasera stasera ho un ospite un ospite speciale è una live difficile ma non perché non perché è difficile perché l'ospite difficile anzi con l'ospite c'è un bellissimo rapporto una bellissima cordialità anche se su alcuni punti la vediamo diversamente ma è difficile perché per la prima volta porto un consulente indipendente in realtà facente parte di una società di consulenza finanziaria non è proprio vero in quanto ho portato già un ragazzo che lavorava in un family office che in realtà era una scf anche quella lì però questa volta lo presento nome cognome faccia volto in ogni caso disclaimerone non c'è nessun endorsement io ho stima di alessandro ho letto molti sui articoli non ho alcuna idea di come lavori adesso stasera magari ce lo dirà non è questa una pubblicità a una società di consulenza finanziaria non è un endorsement ovviamente se avrete piacere sapete come contattarlo stasera parleremo di consulenza finanziaria come funziona la consulenza indipendente veramente quali sono i limiti le possibilità parleremo di filosofia di investimento dove siamo un po più in conflitto più spesso sui mercati efficienti sul concetto di filosofia di investimento come si investe e poi forse prenderemo molte domande dal pubblico quindi se le domande fatele e se avanza tempo c'è anche qualche altra cosa interessante che coinvolge personalmente il buon Alessandro e che magari riusciremo a discutere no Rocco non ci faremo altri non ci faremo altri sono già nemico di tutti chi altro che altro devo chi altro devo ringrazio Daniel per il super sticker e così via allora intanto without further ado diciamo benvenuto ad Alessandro pedone ciao Alessandro ciao Giorgio ciao a tutti i tuoi numerosissimi seguaci ascoltatori eccetera si stanno ancora raccogliendosi fra un po' arriveranno a frotte arriveranno a frotte allora intanto Alessandro introduciti raccontaci un po' chi sei cosa fai da dove vieni dunque io vengo dall'informatica in realtà un po' come come te ero un programmatore ma tanto tanto tempo fa siamo coetane quanti anni hai eh io ho 51 anni ah beh sì sì 47 stiamo lì stiamo lì stessa generale stesso comodo 64 più o meno eh io però avevo lo sharp mz700 con il mitico processore z80 di federico faggin che ho avuto anche il piacere davvero ho avuto il piacere di parlarci a lungo a lungo insieme eh magari questa è un'altra storia magari eh e vabbè quindi quello lì si partiva in assembler eh quindi se volevi programmare in qualcosa caricavi il gv basic eccetera eccetera parto da quello a 18 anni ho fatto una casa editrice che si occupava di riviste per chi programmava e e poi negli stati uniti ho un po' incontrato la finanza con i financial advisor mi sono un po' innamorato della finanza ho unito la passione per la programmazione con la finanza facendo un po' di trading system per conto proprio ovviamente cose che non consiglierei a nessuno trading systems eh sì con easy language non so se lo conosci ok devo nominare tante volte quello linguaggio di programmazione trading insomma sì esattamente sì quindi ho passato tutte le io sono toscano quindi dico le bischerate che si possono si possono fare in finanza le ho fatte più o meno tutte e e poi mi sono appassionato veramente dei financial planner americani sto parlando eh dell'era pre internet sostanzialmente no qui quindi stiamo parlando dell'era eh diciamo la seconda metà degli anni novanta e mh ho venduto la casa editrice per varie per varie vicende non mi sono trovato bene in una grande azienda non non ero diciamo centrato per fare il manager in una grande azienda e e un mio amico mi aveva detto ti faccio fare il financial planner ti faccio fare una un corso per diventare financial planner in italia ma in realtà era vendita quindi erano sostanzialmente in america a lavorare con io ero stato in america stavo in america spessissimo perché nel per le riviste eh sono stato regional director di microsoft quindi spesso era redmond e regional director sembrano un una grande carica ma non è niente di che è un evangelist sostanzialmente della parte dei eh lavorato per microsoft come era è una funzione di evangelist non ero dentro microsoft quindi era una funzione di evangelist delle loro tecnologie di sviluppo eh però spessissimo era redmond appunto perché eh ci facevano queste cose ho portato bill gates eh in italia a roma fra fra i primi a parlare fra l'altro pessimo oratore ma vabbè però comunque insomma ho avuto tutto non so una parte di esperienza nel nel mondo dell'informatica e ripeto sto parlando era pre internet quindi c'era in quel tempo c'era visual studio che credo esista ancora ora è vent'anni che non mi occupo più di questa cosa comunque c'era visual studio con la programmazione oggetto oriented stava iniziando ehm e quindi insomma quindi questo amico mi dice ti faccio fare il financial planner e per me il financial planner era l'unica cosa che conoscevo che erano i financial planner americani il primo giorno che mi accorgo che ho un corso di vendita dico no non ci siamo purtroppo io sono un pessimo venditore da tutti i punti di vista ho stima dei venditori se si vende qualcosa diciamo che si conosce cioè se io ti vendo una penna io posso sapere un po' più cose di te ma comunque è una penna per quanto arti possa mettere in campo comunque tu sei ragionevolmente consapevole di quello che stai facendo in finanza non è così perché si vende una riga e dietro quella riga c'è posta di tutto fondamentalmente quindi per me lo senti sono curioso a parte intanto ti faccio poi domanda in background eh tu avevi conosciuto financial planner americani lavoravano diversamente già a metà già a seconda metà anni 90 avevano filosofia un po' più cioè non c'erano neanche gli etf per capirci non c'erano gli etf ma c'era la filosofia del financial planning eh quindi eh c'erano lì negli Stati Uniti ci sono tutti e tre i modelli ci sono i modelli commission i modelli fee and commission e i modelli fee only eh io quelli quelli che mi avevano un pochino formato eh erano flippati con il financial planning e io all'epoca ero assolutamente flippato con il financial planning tant'è che poi dopo ho fatto un vero master all'università di Siena in financial planning e per tutti i primi anni 2000 il mio mantra erano mercati efficienti e financial planning sostanzialmente quindi i primi diciamo otto anni la crisi del 2008 poi è stata quella che ha cambiato abbastanza profondamente mi ha fatto studiare un pochino più profondamente le cose però i primi otto anni i miei mantra erano pianificazione finanziaria eh diciamo tutti gli studi della financial planning association che tuttora esistono e quindi ero flippato su questo tipo quelli che quelli che danno il cfp quelli che danno il certified financial planner ok e e quindi questa e appunto appena ho fatto appena ho capito che lì era un corso di vendita sostanzialmente ho detto no questa roba non la voglio fare sono rimasto un anno lì perché all'epoca incredibilmente li pagavano cioè senza fare nulla li pagavano e quindi per un anno presso una banca o sim italiana non vogliamo sapere ma si può dire tanto tra l'altro è morta perché si chiamava finanze futuro è stata poi incorporata all'epoca si chiamava finanze futuro e lì ho visto un po' tutte le varie schifezze che facevano nel rete di vendita come era il panorama del financial advising in italia fino anni 90 cioè cos'era non c'era niente era vendita era pura vendita si vendevano i fondi e basta come come era lo standard dei fondi che costi e commissioni come come i promotori guadagnavano tantissimo con la front fee quindi c'erano i costi di caricamento iniziale che mediamente andavano da un 3 a un 5 per cento e poi c'era la management fee che raramente era sotto il 2 per cento e però non se ne immagina però tanti campavano con con i front fee quindi il concetto è che dovevi avere continuare ad avere un certo quantitativo di persone nuove che entravano c'era la questione dei pac c'era il riflullo del portafoglio spesso mettevano i soldi su un fondo e poi da quel fondo lo alimentavano un altro un altro fondo e c'era il far rigirare il portafoglio per avere sempre le commissioni d'ingresso gestioni patrimoniali nel senso cioè non advising mifid come c'era manco il mifid non c'era la prima mifid è venuta nel 2008 e io all'epoca subito subito nel 2001 sono ho voluto diciamo questa piccola esperienza di un anno che avevo visto con le schifezze che succedevano nella rete ho avuto il desiderio di informare più persone possibili e ho contattato un'associazione di consumatori di quelle libere piccola ma comunque libera e all'epoca erano le prime su internet e quindi aveva una grande risonanza nazionale ancora qualcosa ma diciamo oggi un po tutte sono su internet e ho aperto un sito internet che si chiamava investire informati cercando di informare le persone su questa cosa e dedicando un giorno a settimana alle persone che non potevano pagare la parcella e quindi facevo consulenza su quello un giorno a settimana il martedì davo consigli gratuiti o su su internet o alle persone che venivano a firenze delle varie persone che avevano o preso varie fregature in banca c'è stato tutto il periodo del risparmio tradito non so se se ti ricordi questa cosa le obbligazioni argentine le obbligazioni farmalat come noi finanziari c'era un prodotto finanziario del gruppo monte dei baschi che si chiamava my way for you che era una roba assurda quando io vidi questo contratto dissi questo è nullo e ci abbiamo messo 15 anni per avere una sentenza in cassazione che ha detto che il contratto non è meritevole di tutela giuridica era una roba assurda perché tu facevi un mutuo e con i soldi del mutuo compravi le obbligazioni loro e quindi loro si coprivano il mutuo con la differenza di una casa cioè per capirci no ipotecavi l'obbligazione loro stessa quindi tu comprai il mutuo del monte dei baschi l'obbligazione del monte dei baschi e i fondi del monte dei baschi che per 25 anni stavi lì dentro cioè una roba e te la vendevano come prodotto previdenziale cioè c'erano i defiant con il bambino il neonato la testa del neonato è che dicevano l'innovazione nella previdenza ok poi chiederò a qualche amico in mps se si ricorda queste cose perché di sicuro se glielo ricordi my way for you si chiamavano my way for you ok uno my way che veniva quella da banca 121 ex banca del salento e for you invece era quello che vendevano proprio dentro le filiali del monte dei baschi qui i primi anni facevo tanto tanto assistenza legale anche no perché c'erano tantissime di queste cause e prima della della mifid anche dal punto di vista formale le banche erano veramente strascoperte quindi era molto più semplice di oggi diciamo avere una restituzione del maltorto oggi dopo un po' di anni si sono informate era giungla c'era gente poteva dar consul fare dare consigli finanziari a caso cosa sì 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 allora non c'era non non era non c'era diciamo nessun albo quindi diciamo la consulenza finanziaria era un servizio accessorio quindi non era regolamentato e sostanzialmente poteva farlo chiunque quando poi è venuta la mifid è stato previsto come servizio ma per dieci anni non c'è stato l'albo quindi chi già lo faceva prima come me poteva continuare a farlo in attesa dell'albo ma nessun altro poteva iniziare in realtà nel senso che soltanto i dipendenti bancari potevano in più se no non c'era nessun promotore anche se poi qualche collega diciamo lo ha fatto lo stesso però questo è normale diciamo la norma comunque lo impediva e nel 2018 invece c'è stato l'albo e quindi c'è stato l'apertura mi fiduno 2008 mi fid due 2018 19 così più o meno no 2000 mi fid due è mi sembra la direttiva 2014 poi l'applicazione nel nell'italia ci ha messo un paio d'anni e l'albo è avvenuto nel 2018 18 ok quindi tu non ricordo il background accademico tu hai una laurea hai no io io a 18 anni ho fatto la mia prima società e e quindi vengo semplicemente da ragioneria e poi ho fatto computer science alla ucla ma con i corsi estivi quindi ho fatto computer science alla ucla ma li facevo semplicemente per tre anni li facevo d'estate ok quindi il mio background è prevalentemente informatico ok poi hai fatto il master di ho fatto il master all'università di siena sì in financial planning per quello che so tu hai detto che hai fondato forse la prima scf in italia allora la mia è del 2000 del 2002 come società e già lo facevo nel 2000 nel 2001 è stato un periodo con i dottori commercialisti con cui lo facevo senza società quindi lo facevo come libro professionista per quello che so io 2001 dovrebbe essere proprio la prima società che non è che non è la mia è di una insomma molto molto famosa però sostanzialmente l'idea di farlo come libro professionista con dottori commercialisti è la prima in italia cioè quello proprio di abbracciare il modello dei libri professionisti ok poi possiamo anche dire il nome tecta si chiama poi dopo magari lasciamo anche il link in descrizione per chi è interessato domanda ho visto che tu hai lasciato un commento non sono riuscito a a leggerlo tutto a risponderti a questi giorni un po impegnativi ieri ieri è uscito un video sul mio canale che parla dei limiti della consulenza indipendente ti va di di dirci un po volentieri tu in quel video leggi diciamo una una mail di un di una persona che dice che la consulenza indipendente è come andare dalla braccia alla padella no invece che eh l'inverso dalla dalla padella alla braccia e e fa alcune critiche alla alla consulenza indipendente al di là del modo in cui le fa che è un pochino forte però a mio avviso alcune mh problematiche le solleva sono sono sensate io per esempio venendo da libri professionisti eh l'idea di che la la consulenza sia una percentuale del portafoglio non mi è mai piaciuto a un granché cioè diciamolo sì io applico anche anche questo modello eh perché in realtà è sempre ho visto che è lo standard di mercato e quando ha un potenziale cliente gli proponi una cosa alternativa c'è un po di diffidenza c'è ma allora ma poi non so confrontarlo eccetera allora io ho detto nel mio sito ci sono le tariffe chiare del modello standard quindi se vuole se se uno e le può confrontare credo per esempio che un 1 per cento su un portafoglio per me è eccessivo perché io sono vent'anni che critico le banche sui costi se poi alla fine dico ok io ti faccio pagare più o meno quanto un po meno ma comunque insomma parcelle eccessive per me l'uno per cento è comunque una parcella eccessiva anche sui portafogli piccoli noi si parte da uno 0 75 sui portafogli direi come upper bound come massimo sui portafogli piccoli da sotto i 200 mila euro si prende 0 75 un po come come operate purtroppo sembra sembra una marchetta sembra sembra che a me piaceva fare più l'altra parte e tanto la gente ci arriviamo la seconda parte parleremo di filosofia di investimento io non ho nessuna difficoltà a dirlo però a me piace parlare chiaro chiaro non ripeto sempre che non è un endorsement però però voglio voglio capire voglio voglio capire io voglio voglio far capire al pubblico ad esempio come opera una società di consulenza finanziaria la tua specifica però sono curioso già questo qui è una bella informazione intanto che ho sempre veramente visto noi noi il nostro modello precedente era quella di dottori commercialisti e tuttora in parte ce l'abbiamo cioè noi dicevamo qual è il problema da affrontare e ti dico la cifra cioè la parcella per risolvere questo problema ed è una cifra non è una percentuale indipendentemente dal fatto che noi tuttora abbiamo un modello orario cioè non è detto che noi si debba mantenere il rapporto sempre magari hai un problema specifico te lo vuoi costruire te il portafoglio ma hai dei dubbi vuoi un secondo parere vuoi una e semplicemente si fa un discorso ad ora per risolvere un problema specifico e quindi c'è anche questo questa possibilità di avere un consulente non come che ti segua la mifid che ti debba fare la reportistica le raccomandazioni e tutto ma semplicemente vuoi seguire te il grosso il tuo portafoglio ma senti che soprattutto all'inizio non hai non hai la confidenza per fare le scelte però questo in italia non è molto gradito anche dal livello normativo no cioè non si può fare così cioè si può fare ma devi aderire comunque devi fare profilazione mifid reportistica cioè la normativa non ti aiuta in questo qua cioè fare una consulenza one off a una persona a te costa tanto credo no allora se se il cliente non è un cliente in consulenza personalizzata ok educazione gli dai un io posso comunque chiaramente se gli do una raccomandazione in una consulenza oraria comunque devo fare tutto il percorso quindi comunque devo assicurarmi del suo profilo di rischio di tutte queste cose quindi sì c'è un costo in più ma se il cliente vuole una informazione semplicemente voglio capire che so il la differenza fra gli etf che hanno la replica fisica quelli che hanno una replica sintetica è più complicato questo cioè oppure che hanno problemi fiscali è molto complicato andare in dichiarativo o no per esempio noi abbiamo tutto un expertise che viene dal fiscale perché abbiamo i partner dottori commercialisti eccetera queste cose si possono fare senza problemi ok chiaro chiaro quando si entra in aiutami a costruire il portfolio costruiamo il portfolio dimmi cosa devo comprare lì è più difficile ma è anche giusto che sia così perché costruire un portfolio senza avere un profilo della persona non ha senso quindi è giusto che ci sia un'analisi poi della della persona stessa quindi specie un po come come lavorate il lato gestione portfolio allora sostanzialmente quindi al di là della consulenza oraria che appunto la consulenza oraria sono conferme diciamo non si entra nello specifico del portafoglio perché non si entra nel senso si risolve un problema specifico con la consulenza oraria ma non si fa un progetto noi abbiamo due servizi un servizio lo chiamiamo finanza trasparente e un servizio lo chiamiamo progetto di vita finanza trasparente è più un discorso di asset allocation e quindi è un è diciamo un una consulenza un pochino più standard è un asset allocation abbiamo un modello che non è un modello a torta classico dove si fanno le 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 scomposizioni no della torta sulle asset class ma è un modello piramidale cioè è un modello che si va si fonda sui bisogni ci sono tre grandi layer della piramide cioè la piramide della protezione dove si va a coprire le esigenze di spese e le esigenze diciamo più basilari di spese più basilari quindi tendenzialmente a liquidità cash la parte di sicurezza dove si va a coprire le spese programmate ma ma future in questa parte sicurezza c'è anche un altro aspetto ma sarebbe un pochino più complicato e tutto il resto va sulla crescita cioè sulla su un portafoglio essenzialmente azionale che per gente con soldi è la grande maggioranza del capitale certo e questa parte qua la parte crescita noi abbiamo un modello di costruzione di questo portafoglio però non come dire è importante che il cliente capisca che questo il nostro modello cerca diciamo di fare meglio della media del mercato ma non è questo l'obiettivo bello bello mi piace mi piace ma non è questo l'obiettivo nel senso che l'idea non è battere il mercato ma l'idea è prendersi la tipologia di rischi che sono più compatibili con le proprie caratteristiche questo qui mi piace talvolta non significa neanche batterlo il mercato perché se sono una prudente che vuole limitare il max drawdown o cosa del genere chiedo scusa perché ho la voce un po roga che sono stato vengo da giorni un po di raffreddore spinto per cui scusate ragazzi se mi sentite un po così quindi hai detto la divisione in pilastri visto che vanno molto di moda da da bernstein a coletti il modello a pilastri quindi hai un pilastro di liquidità un pilastro di spese previste e il resto essenzialmente detto tutto azionario il resto tutto azionario salvo che nella nella parte diciamo di sicurezza quindi nella parte obbligazionaria ci può essere anche 50 milioni mette 40 49 nell'azionario c'è il cliente che hanno diciamo da dai 500 milioni di euro in su normalmente è l'altro servizio che è più adatto che è il progetto di vita dove c'è la parte progettuale quindi questo è un pochino più di asset allocation però sempre restando su questa nella parte di sicurezza oltre alle spese previste c'è una componente di obbligazionario che ha la funzione di rendere le oscillazioni sopportabili per quel profilo quindi diciamo nella parte sicurezza ci sono tutte le spese ma c'è anche quella quota di obbligazionario che deve servire a gestire l'oscillazione essenzialmente quindi tutto il resto poi di crescita invece la funzione di crescita è svolta dalle azioni perché diciamo il rendimento nel portafoglio è prevalentemente diciamo fornito dalle azioni e in queste azioni noi diamo le alternative cioè noi abbiamo dei modelli di composizione di azionario ma la prima alternativa da capire siamo sicuri che vogliamo fare questo perché stare comunque nell'MCI World è già un ottimo portafoglio di per sé cioè un etf può risolvere la situazione dell'azionario però se invece vogliamo provare a fare altre cose perché vogliamo prendersi delle tipologie di rischio diverse allora lì si spiega ci sono tutta una serie di modelli con questo servizio abbiamo molto un approccio diciamo che viene un po' dal concetto che non mi piace moltissimo di evidence based investing quindi diciamo c'è un approccio abbastanza accademico e dove appunto la scomposizione segue tutta una serie di concetti un pochino complessi da spiegare se vuoi magari in un'altra parte non conosco questo termine tornando ai limiti della consulenza volevo farti qualche qualche domanda a riguardo cioè il video di ieri mostra dei conflitti di interesse intrinseci anche nella nella finanza anche nella consulenza finanziaria chiamavano indipendente ad esempio il fatto che tu devi tenere a te un cliente e quindi devi o mostrargli complessità oppure proteggerlo ma in senso paraculo scusami il termine del tipo questo non voglio che se ne va per cui piuttosto che che gli faccio un timing al contrario gli compro bond quando lo metto in liquidità quando il mercato perde un 10 per cento così non mette troppa perdita la tua opinione a riguardo che potenzialmente la questione c'è e qui si tratta di qui si tratta di etica professionale fondamentalmente io io credo molto semplicemente questo è fondamentale quando si va da un consulente fargli le domande giuste e capire qual è il suo primo il suo approccio cosa dice per esempio io non andrei da un consulente che pensa di saper prevedere mercati però a volte capita che il cliente invece è convinto che il lavoro del consulente sia quello di trovare il titolo giusto trovare o trovare il timing giusto per entrare nel mercato e per guadagnare di più di quello che fa il mercato e a me se viene un cliente del genere semplicemente gli dico guarda non è non sono io la persona giusta perché non lo so fare. Hai qualche bella stock da raccomandare queste cose qui. Sì 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 ma anche ora questi in genere chi viene da me perché ha letto spesso diverse cose che ho scritto quindi in genere già filtrato no però a volte viene persone che magari fanno le ricerche dall'albo così no e si vede che hanno l'atteggiamento di dire ok ora tu mi devi dire qual è il modo per tra virgolette diventare ricco comunque guadagnare di più e io la prima cosa che dico è guarda io non lo so fare semplicemente non credo che nessuno sappia prevedere il mercato io di sicuro non lo so fare. La gente pensa che con gli investimenti si diventa ricco partendo da poco esattamente. La gente non capisce che un 10 per cento anno diventi ricco in 40 anni partendo da poco o se sei già Elon Musk ogni anno ti prendi un Bill Gates in più ma difficilmente tu hai 3000 euro messi da parte a 30 anni diventi ricco con gli investimenti vai qualche gratta e vinci oppure approcci simili alla gratta e vinci per sperare qualcosa ma non è non è quello standard. Comunque ecco quindi quei problemi possono esserci questi problemi di conflitto di interessi possono esserci però qui dipende proprio dall'etica e ai potenziali clienti dico cercate di capire cercate di capire chi avete davanti e anche cosa gli chiedete perché se 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 chiedete al consulente qualcosa che non può fare si inizia subito con un rapporto che non è onesto da entrambe le parti e quindi questo ci può essere personalmente quando il cliente per esempio nell'altro servizio progetto di vita dove invece dedichiamo tanto più tempo all'aspetto psicologico e educativo per me il successo di quel progetto è quando il cliente va via non quando il cliente rimane cioè il successo è quando ha finito un percorso ritiene di essere in grado di fare da solo e quello per me è il successo ma quando si va da uno psicologo non è che il cliente e lo psicologo è bravo se sta in terapia per 40 anni no in genere si risolve un problema l'investimento è un problema in linea di massima ognuno è in grado di investire soldi da solo ci deve dedicare soltanto un po di tempo e quindi un buon consulente forma il cliente e poi il cliente fa da solo prendo qualche domanda dal pubblico domande un po interessanti stanno uscendo Giulio ci chiede come gestisci tu riesci a leggere domande anche quelle che si ma ora ero preso dalla conversazione con te ne prendo qualcuna perché alcune sono interessanti come gestisci i bilanciamenti con questo schema piramide interessante dipende dalla strategia che si usa perché nella parte crescita ci possono essere varie strategie come dicevo la quella basic è semplicemente mci world però è basic non è che va male secondo me a tanti clienti non è adatta però è un'opzione se invece si si scelgono altre strategie qui la chiave è che tipo di funzione deve avere questa strategia ci sono dei casi a mio avviso nell'azionario il problema più grosso dell'azionario sono le grandissime discese che non sappiamo quando capitano ma se capitano ti rovina il rendimento per un periodo molto molto lungo quindi la questione fondamentale è affrontare questo non nelle piccole oscillazioni ma le enormi oscillazioni se si ha una quota importante di azionario e non si non si ha una risposta a questo problema cioè se succede un 2008 o un 2000 cosa faccio e io questo cosa faccio lo devo sapere prima ma non cioè non prima nel senso che prevedo la perché altrimenti si ritorna al discorso di prevedere partendo dal punto che non si può prevedere fondamentalmente devo devo avere un'opzione per e le mie opzioni che conosco sono soltanto due non credo che non esistano altre la prima è avere una riserva obbligazionaria da investire quando il crollo è successo in modo che io posso recuperare prima questo è timing però no non è timing perché il crollo è già successo vabbè non lo sai mai quando è già successo anche nel 29 ok è sempre timing cioè se metto un limite del tipo che quando perde il 30 per cento entro sono mille studi fatti su cui quanto sia una forma di timing in ogni caso cioè tenere i soldi in panchina tendendo un crollo è una forma di timing però ok ci sta voglio dire faccio timing possiamo dare il nome che vogliamo e poi si entra nella seconda parte no la questione è proprio di filosofia di investimento eccetera però per me il problema più grosso dell'azionario è proprio questo un approccio è quello di un approccio è quello di se ci sono dentro ci sono nel mezzo devo avere una una riserva per poter poi riuscire prima l'altro approccio è tentare le grandissime crisi di anticiparle è difficilissimo è costoso si può sbagliare è un costo assicurativo ma diciamo se io ho una fetta grossa di azionario posso tentare di provare queste cose sapendo che è un costo ci sono c'è la possibilità di di provarci sono diciamo indicazioni di questo tipo possono sbagliare ma siccome sono pochi casi nella storia in cui sono successi ci sono dei pattern mischiando macroeconomia e sostanzialmente indicazioni che vengono da dall'analisi dei trend ci si può provare ed è un'ipotesi anche questo ritengo non è che dobbiamo farlo questo significa prevedere il futuro cioè nel senso questo qui ecco questo è una cosa in cui forse io e te andiamo più in conflitto cioè finora hai detto che il consulente finanziario o comunque quello che mi gestisce il portfolio quindi non stiamo neanche in consulenza stiamo parlando di portfolio management non sa prevedere il futuro però c'ho dei pattern di risk off che può applicare che significa overperformare significa prevedere il futuro come come concili questa cosa è questo è qui poi si entra appunto nel secondo tema che è quello che mi piacerebbe capire io so di non sapere io so che non posso prevedere però se so anche che i mercati hanno rari momenti veramente eccessivi che se capitano se capitano mi creano un problema molto grosso allora sapendo che posso sbagliare è più grave per me prendermi un meno 50 o uscire dal mercato adesso ho sbagliato il mercato non 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 scende non va in quella direzione e devo rientrare ad un prezzo più alto e quindi ho il costo di uscire di rientrare quali dei due costi sono per me più gravi ora se questo lo facessi tutti 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 i anni con l'idea di sovraperformare perché il mio obiettivo è sovraperformare allora io lì sto facendo una cosa sbagliata perché sto facendo questa cosa come regola per cui io credo di voler far meglio invece io non dico io so prevedere i mercati però ci possono essere degli indicatori ma sono è molto semplice la macroeconomia ad esempio nel momento in cui io ho il differenziale dei tassi che sono ampiamente negativi e la disoccupazione che sta crescendo è diciamo un contesto classicamente di economia che sta andando in recessione se ho anche l'azionario che è fortemente negativo queste due combinazioni insieme capitano molto raramente per molto raramente intendo una volta ogni 4 5 anni comunque una volta ogni diversi anni lì è la questione di quanto azionario ho in quel momento e poi è anche una questione sempre di quanto no cioè se ho un 30 per cento di azionario il mio portafoglio me ne posso anche abbastanza fregare di questa cosa perché tutto sommato una grande discesa su un 30 per cento dell'azionario la gestisco non non è una questione ma se ho un 60 70 per cento di azionario magari ci penso a ridurlo posso sbagliare sicuramente sì posso sbagliare certo ma non è che capita tutti gli anni questa cosa ok però quindi quelli che mettono i limitò cioè i market maker in quel momento sono folli a mettere anche dei buy order a zero a uno spread minuscolo attorno al market price non sarebbe qualcosa che anche gli altri farebbero non ho capito che hai detto non ho capito se tu dici sono degli indicatori che ti dicono quando forse sono unici accadono poche volte nella storia quindi anche basandoci su pochi sample mi sembra non il massimo e se hai i tuoi indicatori ti dicono forse il mercato crollerà lo sanno già anche quelli che stanno settando il prezzo che c'è oggi sono sono folli no 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 semplicemente hanno orizzonti temporali diversi cioè i market maker non guardano le cose nei trimestri nel market maker guardano la cosa al prezzo di domani di dopodomani cioè abbiamo semplicemente orizzonti temporali diversi ok è proprio la questione della filosofia di investimento cioè questo 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 approccio diciamo presuppone una certa visione del mercato ed è qui il cuore del discorso una delle cose che dico sempre agli investitori è cercate di capire qual è la vostra filosofia cioè cosa crede come credete che i mercati funzionino perché il vostro portafoglio poi deve essere orientato in questo modo e ripeto non è un approccio che dobbiamo usarlo io ai miei clienti dico se vogliamo stare fissi sul mercato è una è un approccio assolutamente sensato e nel 85 90 per cento dei casi funziona il dramma secondo me della teoria dei mercati efficienti è che in genere funziona è quello il problema cioè è una teoria per me sbagliata che normalmente funziona però il fatto che il fatto che funzioni non significa che sia vera ma c'è chi chiede al volo il buon gioco è un nostro infiltrato nelle banche qualche esempio pratico di questa strategia cosa è stato fatto nel 2008 hai visto due tre due tre crisi di media dimensione tra due grandi due grandi e 2000 2002 e 2008 quella della del covid la considero una crisetta nel senso che è stata molto veloce è stato ha fatto un effetto a v quindi beh però dopo che c'era la v è stato il crono più raso dei mercati come sì sì allora qui chi allora non so se c'è qualcuno se c'è qualcuno che magari legge le cose perché poi la cosa che io quello che dico l'ho scritto no quindi diciamo ho scritto da vent'anni quindi si può andare a vederlo le varie cose è facile dirlo che questo questo approccio nel 2000 e nel 2008 ha funzionato e ha salvato tantissimo portafogli ma non mi piace cioè non mi piace neanche troppo parlarne perché anche da dimostrare comunque questo non non dice che nella prossima funzionerà cioè il problema è che i casi sto cioè un investitore io li chiamo adulti no cioè un investitore adulto deve abbandonare l'idea che siccome in passato ha funzionato allora è buona non è quello il punto non dobbiamo scegliere una strategia per quello che ha fatto è chiaro che si va anche a vedere no ma si va a vedere per capire se non è una cretinata non per capire se è buona è diverso l'approccio no cioè chiaro che se scegli una strategia e vedi che in passato ha fallito è quello è una buona cosa per non sceglierla ma non se in passato ha funzionato non significa che è buona e che sarà buona anche in futuro deve essere sensata logica cioè deve avere una coerenza interna tra quello che credi quindi ci deve essere un perché non siccome ha funzionato nella serie storica io così appelle quello che ho percepito diciamo da gli altri consulenti indipendenti che ho conosciuto è che essenzialmente lato investimenti la consulenza finanziaria indipendente è un sostituto di un robot advisor nel senso che prende ti piglia il mercato difficilmente c'è consulenza indipendente di tipo cerchiamo di battere il mercato cerchiamo di fare scelte molto 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 attive parliamo di appunto invece mi sembra di aver capito che comunque operi con una certa attività per chi vuole mi sembra che è molto soggettivo se qualche cliente gli sta bene prendere il mercato a quel punto però a quel punto perché viene da te e in ogni caso andiamo al noccio della questione tu dici che la efficient market ipotesi è sbagliata puoi elaborare sì sì allora la teoria dei mercati efficienti è una delle teorie diciamo che ha più prove no cioè più evidenze più evidenze se si guarda negli accademici sono tantissime tantissimi paper che dimostrano no che che se guardiamo le serie storiche essenzialmente funziona il problema è che i presupposti della teoria dei mercati efficienti sono chiaramente sbagliati cioè il fatto che gli operatori sono razionali il fatto che non ci siano frizioni per cui si possono semplicemente prendere a prestito in quantità illimitate quindi i mercati non hanno frizioni cioè c'è tutta una serie di presupposti della teoria dei mercati efficienti che sono chiaramente sbagliate e diciamo che dopo la teoria dei mercati efficienti ha avuto un grandissimo una grandissima risonanza in accademia almeno fino a tutti gli anni 90 dopo è stata fortemente messa in discussione dalla behavioral finance quindi dalla teoria del prospetto canemal eccetera il problema è che la quel tipo di teoria la teoria del prospetto chiaramente aveva basi molto più sensate dal punto di vista di presupposti ma non ha non ha risvolti pratici cioè matematicamente non puoi dirgli nulla no cioè semplicemente ti dice la prospettiva di parla del dell'utilità attesa essenzialmente no l'utilità attesa e diciamo distrugge i presupposti teorici della teoria dei mercati efficienti no la teoria dei mercati efficienti parte dal presupposto che gli operatori sono razionali no sei d'accordo su questo no il concetto della teoria dei mercati efficienti razionali decido come cioè nel senso che una bolla è comunque parte di un mercato efficiente tutti sono pazzi per per un'azione singola e la dot com era un momento comunque di efficienza era di follia ma follia era difficile da 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 stabilire il giorno dopo come sarebbe andata la borsa cioè per me efficienti significa che l'informazione è apprezzata dentro allora facciamo un passo indietro per definirla non sono un fanatico dei mercati efficienti io dico soltanto che i mercati anzi nel tasse dovessi io dire cosa penso è io credo anche una reversion to the mean per cui o meno l'unico passo che abbiamo visto nella storia fino adesso è stata una reversion to the mean per cui non è un random walk puro però i mercati sono efficienti per noi esseri umani normali possono essere meno efficienti per appunto il mio amico riccardo marcaccioli che lavora in un hedge fund e che sta lì a studiare con le immagini satellitari dove si muove l'on mask per anticipare quale azienda comprerà per lui magari sono può trovare inefficienza di mercato però allora è utile noi esseri umani investiamo con uno smartphone i mercati sono da considerare abbastanza efficienti questa è la mia visione però allora facciamo un passo indietro con la definizione precisa no perché perché altrimenti quando parliamo di mercati efficienti normalmente ci rifacciamo alla teoria di fama no french and fama con i tre livelli di efficienza l'efficienza informativo eh eh debole eh semi forte forte ok ok parliamo di questo concetto cioè l'idea è che i prezzi riflettano tutte le informazioni possibili e quindi eh ci sono tre livelli di informazioni possibili e quindi l'idea è questa che i prezzi riflettano tutte le informazioni possibili affinché ciò sia possibile ci sono dei presupposti cioè quando noi applichiamo la cap per esempio la eh le varie le varie formule della della cap ora io qui io qui parlo abbastanza tecnico perché so che hai un pubblico di questo tipo se devo definire cosa non conosce markovitz andasse fuori in questo momento benissimo benissimo quindi qui qui possiamo ecco per per la frontiera efficiente quindi per applicare diciamo la formula di markovitz il presupposto cioè quelle formule matematiche hanno senso se sappiamo se sappiamo che intanto non ci sono frizioni cioè tu de ehm gli operatori possono acquistare o vendere quantità infinite di prezzo cioè perché la formula matematica abbia senso questo è un presupposto sei d'accordo è chiaro però sì 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 sono d'accordo però è come dire la fisica non funziona perché il punto cinematico non esiste il punto materiale non esiste la fisica non funziona è ovvio tutta un'approssimazione è chiaro è tutta un'approssimazione dove si dice però ce ne sono una decina di queste approssimazioni no di queste ipotesi ok quindi quando io dico è eh i mercati e questa teoria da un punto di vista di presupposti è debolissima perché fa delle assunzioni che sono chiaramente contrarie alla realtà della dei fatti ma da un punto di vista delle evidenze è fortissima perché com'è che si dimostra da un punto di vista di evidenza cioè com'è che accademicamente si dice è vera questa teoria si dice è vera se è impossibile applicando le informazioni precedenti avere degli extra rendimenti rispetto al rapporto rischio rendimento dove il rischio si approssima con la deviazione standard ok quindi questo presuppone che il l'investitore usi le informazioni per ottimizzare solo questo parametro ciò anche questo è assolutamente falso perché l'investitore non vuole solo ottimizzare il rapporto rischio rendimento è una è una supposizione accademica che quello sia il parametro che dobbiamo ottimizzare ma in realtà la mia esperienza di vita e la mia esperienza con i clienti dice che non gliene frega assolutamente niente della oscillazione se raggiunge i suoi obiettivi l'oscillazione non è negativa l'oscillazione è necessaria per il guadagno è l'oscillazione negativa che ha un problema cioè l'oscillazione in giù che è un problema ma non l'oscillazione di per sé come prima cosa ma parliamo di oscillazione verso volatilità poi ci arriviamo esattamente e quindi quello che ti dicevo è che gli studi ti dicono chiaramente che è impossibile usare le informazioni precedenti per fare sopra performance cioè è impossibile vuol dire che nel statisticamente nella grande maggioranza dei casi e questa è la ragione per cui molti gestori attivi non hanno senso la stragrande maggioranza dei fondi di gestione attiva non ha senso quindi tutta questa parte della teoria è vera quella che quello che io sostengo è che nella nella realtà dei fatti i mercati finanziari non funzionano in quel modo cioè non è vero che gli operatori utilizzano correttamente le informazioni cioè prendono queste informazioni e fanno una buona stima che costantemente fanno una buona stima che il prezzo rispetta nel senso che è ovvio che miliardi di operatori non possono essere tutti razionali quindi trovato una un bricio di sabbia fuori posto la teoria è falsa io dico mi falsifichi ok vuol dire quindi che abbastanza facile in maniera sistematica battere il mercato o capire in che direzione vanno i mercati può essere l'efficio market ipotesi falsissima nonostante questo io devo ancora considerare un random walk il mercato esattamente quello che io dico quello che io dico è proprio questo quello che io dico è proprio questo allora il modo migliore che è l'investitore specialmente quello non troppo esperto l'investitore deve considerare come se i mercati fossero efficienti quindi non deve provare ad anticipare il mercato e anche se i mercati per me non sono efficienti e la teoria come sai che io che considero più vera è quella di andrew l'adaptive market ipotesi però alla fine i risultati non sono molto diversi nel senso che comunque per quanto i mercati abbiano dei cicli dal mio punto di vista ci siano i cicli di mercato esistono dei cicli di mercato ma questi non sono prevedibili quindi quello che io dico di lana gavrina ce ne sbattiamo chiamala come vuoi ma alla fine la stessa l'unica differenza pratica grossa sta in quello che dicevamo prima se i mercati sono adattativi e non sono efficienti il problema ed è la differenza pratica il problema delle grandi discese è un problema dal mio punto di vista affrontabile cioè che si può tentare di farlo sapendo che ci si può sbagliare ma sulle sulle brevi oscillazioni è un perdere perché i mercati proprio per questa teoria dell'adaptive market ipotesi dice che gli operatori poi ti posso chiedere un'introduzione all'adaptive poi il lavoro è di andrew law lo trovate un po ovunque ha fatto anche una bellissima serie su youtube in search for the perfect portfolio in cui ha intervistato fama schiller bogle insomma è un personaggio andrew law sì sì e allora andrew law ha cercato di mixare diciamo i presupposti della della teoria dei mercati efficienti con quella della teoria del prospetto quindi la behavioral finance la finanza comportamentale eccetera e a questo approccio che si chiama adaptive market ipotesi che parte dal presupposto che intanto non esiste un operatore finanziario ma i mercati finanziari sono popolati da specie diverse cioè esistono è diverso un hedge fund da un fondo sovrano da un investitore dalla massa degli investitori retail da un fondo a gestione attiva da un operatore che magari fa dei cta quindi che usa molto il trading algoritmico ci sono tanti approcci diversi e ciascuno di questi ha dei comportamenti diversi fra di loro quindi intanto non esiste un unico investitore ma esistono una classe di investitore la base della emh è che la risultante è che tutti giocano a giochi diversi il prezzo oggi è il prezzo efficiente ma la componente è diversa quindi cioè non si può fare una media che rimane sempre quella perché questa popolazione varia si chiama adaptive il concetto di adaptive è proprio quella del 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 modificarsi nel tempo è una fase in cui tutti vanno a fare trading o c'è una fase in cui la gente ad esempio è una fase in cui il mercato sta spostando da attivo a passivo c'è una molti più in america già da un annetto e mezzo il passivo investing è solo l'active investing questo qui quindi è un è un parametro da prendere in considerazione secondo l'adaptive market ipotesi esattamente questo questo infatti è uno dei concetti no quindi la popolazione varia e il mix di popolazione varia di volta in volta com'è che varia varia al variare dell'ambiente quindi diciamo è una un tipo di teoria che ricorda molto diciamo riusa molto il concetto un po del darwinismo no quindi della biologia del dell'adattamento delle specie no fondamentalmente quindi l'ambiente cambia com'è che cambia l'ambiente per tanti aspetti ci possono essere cambiamenti interni ad esempio pensa a quanto è diverso un mercato dove negoziare un titolo ti costa il 2 per cento o un mercato in cui grazie all'informatica diciamo dagli anni 70 in poi e sempre di più il trading costa pochissimo oggi no già questo è un cambiamento strutturale interno che i mercati degli anni 70 non sono minimamente paragonabili ai mercati di oggi solo da questo punto di vista però sono nati operatori sono nati miliardi di entità in mezzo tra cui gente che ho intervistato che sono bravi a far calcoli a mente per capire quanto quanto il singolo tic di salto di azione è in percentuale del valore dell'azione e quindi high frequency trading entra la gente che ha esattamente questo cambiamento di ambiente ha creato una nuova specie nel mercato la specie degli high frequency trading negli anni 70 non era non era l'ambiente non lo consentiva cioè non c'era quel tipo di specie di investitore non aveva senso l'ambiente non lo consentiva è cambiato l'ambiente a questo ha creato un cambiamento negli operatori no quindi l'adaptive market ipotesi eh prende in considerazione questo aspetto e sostanzialmente diciamo volendolo sintetizzare molto dice eh i gli operatori finanziari sono tendenzialmente razionali quindi eh non sempre razionali ma sono tendenzialmente razionali ma eh si adattano ai mercati e tendono ad applicare delle euristiche queste euristiche tendenzialmente funzionano ma ci sono fasi in cui l'ambiente del mercato cambia molto e queste euristiche non sono più applicabili funzionavano fino a poco tempo fa ma non sono più applicabili loro continuano ad utilizzarli questo genera un cambiamento poi di specie vincenti per un certo periodo vince un certo tipo di specie poi queste euristiche in quel contesto non sono più valide quella specie per un po di tempo prende delle grandi legnate è come se fosse un metagame come nei 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 giochi online nel senso che c'è il periodo in cui le tech vanno forti la gente si butta link batte il mercato a un certo punto arriva uno slash mostruoso e fine no come un tempo c'erano le energetiche no cavalcavi le sette sorelle del petrolio e il più ricco del mondo poi a un certo punto boom crollavi sostanzialmente è una visione più complessa rispetto a a l'ipotesi dei mercati emergenti dei mercati efficienti ma molto più molto più reale e cos'è quali sono i cambiamenti fondamentali da un punto di vista teorico questo approccio che dal mio punto di vista è molto più reale cioè molto più vero vicino a quello che succede nei mercati realmente ti giustifica cioè rende sensato l'ipotesi dei cicli di mercato quindi i cicli di mercato secondo me esistono cioè la mia esperienza diretta ma anche la mia approfondimento teorico mi dice che i cicli di mercato sono una realtà diverso e dire che li so cavalcare fino adesso certo per fare la domanda che ha fatto anche giovanni qui che sto messo in light non mi è chiaro come questo possa creare benefici nella pianificazione finanziaria concretamente dire 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 non mi accontento di prendere il mercato così com'è ma voglio cercare di cavalcare anticipare prevedere difendermi da cicli di mercato come si fa concretamente fare un esempio concreto sì sì certo quindi allora avendo capito che non prevediamo quindi avendo capito che se se uno abbraccia questo tipo di divisione quindi i cicli esistono ok quindi cicli esistono ma il nostro giochino che vogliamo fare non è cercare di anticiparli cioè sappiamo che esistono ma non vogliamo anticipare che cosa possiamo fare possiamo osservare in che fase del ciclo siamo quindi possiamo osservare se ad esempio le azioni sono care o se non sono care questa osservazione io un tempo investivo basandomi sul cape quindi in base al cape modificavo che un po' ci quindi anche io nel mio al core della mia della mia modello modello del mercato c'è il il reversion to the mini fondamentali sono l'unica cosa che conta quindi se stiamo in un momento in che valutiamo cento volte gli earnings c'è un problema se stiamo in un momento in cui valutiamo due per gli earnings c'è un'opportunità quando dici c'è un problema può essere irrazionale molto a lungo esatto quando dici c'è un problema però stai stai dicendo che i mercati non sono efficienti no sentiamo per me c'è un problema anche con gente che crede agli ufo però potrebbe continuare a crederci per l'eternità domani potremmo essere dominati da gente che degli ufo il mondo è dominato da un sacerdote che dice guarda c'è un ufo che ci ha detto dobbiamo tutti quanti cantare in questo momento è sempre ma infatti sarebbe anche se irrazionale ma infatti quando io ti dicevo che la teoria dei mercati efficienti non è vera ma funziona intendevo proprio questo cioè la gente può credere all'uffo all'infinito e i mercati possono diciamo non prezzare correttamente la cosa all'infinito però se tu mi dimostri la teoria sulla base dei prezzi non mi hai dimostrato i fondamenti cioè che che c'era quindi quindi cioè prezzare le dot com prezzare tiscali a mille non era e non è efficiente non me la puoi raccontare ma chiaro però la scioltare quando stava a 100 te l'hai giocato a casa se la scioltavi quando stava solo a 100 per ti sei follia quindi l'ha sciorto e ti sei giocato a casa come game stop quindi ci sono momenti in cui i mercati sono folli è un fatto folli che poi io possa dire io so quando smettono di essere folli allora quello diventa un altro folle cioè quello che pensa di sapere come cavalcare la follia è il folle più folle degli altri e qui siamo d'accordo ma che ci possono essere momenti in cui i mercati sono folli in una direzione o in un'altra è un fatto per me è un fatto io personalmente reagisco non più ma potrei rifarlo rimodificando leggermente la mia set allocation magari sentendomi più ma più che altro è per non è per cercare di battere o prevedere ma è per dire mi dormo meglio la notte se sono meno esposto all'azionario nel momento in cui l'evaluation sta a 100 per ad esempio che è chiesto del cape cape è cyclically adjusted price to earning radio che è chiesto più volte cioè sarebbe il su media mobile dieci anni il rapporto tra prezzo di una market cap di un'azione e earnings e quindi profitti della della dell'azienda stessa aggiustati per l'inflazione stati per l'inflazione ok ok aggiustati per l'inflazione e quindi tornando alla pratica no se abbiamo se 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 mi segui sull'idea che i mercati di fatto possono essere inefficienti nel senso che non in alcuni momenti non prezzano correttamente cioè sono eccessivi in una direzione o nell'altra se uno abbraccia questa idea nella maggioranza dei casi in realtà non lo non si può sapere cioè c'è possono essere inefficienti ma in una misura in cui è difficile capirlo se se è vero o meno no ma in alcuni casi invece è si può capire che ci sono degli eccessi se uno abbraccia l'idea che ci sono degli eccessi ma non può sapere quanto dureranno questi eccessi il modo pratico per usare questa informazione è quella di calibrarli sui i propri obiettivi di vita cioè la questione è io non so ma io non so come vanno i mercati ma so quello che serve a me cioè io so i miei obiettivi di vita e posso adeguare l'informazione che ho in questo momento cioè i mercati sono eccessivi ritengo che sono eccessivi potranno continuare a essere eccessivi stiamo facendo le stesse cose ma non ci stiamo capendo però stiamo facendo le stesse cose secondo me quindi io adatto i portafogli non in funzione di prevedere perché voglio battere il mercato perché quello è un gioco perdente ma in funzione di raggiungere i miei obiettivi con una probabilità più elevata probabilità è non è che stiamo totalmente allineati siamo totalmente allineati intanto rispondo al volo a mike che chiede scusa ma allora guardare il capo non è fare timing sì è fare timing ma timing non significa faccio timing per battere il mercato ma io voglio fare timing per avere una intanto studi di shiller sull'ex escape yield e sul earning yield e la correlazione dei ritorni a 10 anni cioè storicamente il mercato in base alla ai multipli cioè quindi a quanto sono sopravvalutate sotto le relazioni rispondono in dieci anni una certa correlazione con i ritorni cioè si molti studi anche a riguardo che ovviamente come dire si parla di reversion to the mean qui e quindi ci dicono che se stiamo in una fase in cui i mercati sono molto alti come prezzi nei prossimi dieci anni non sai quando non sai come non sai dove puoi aspettarti ritorni più bassi oggi guardi tutte le analisi che parlano sui ritorni del s&p 500 proiettati nel futuro le stime sono sono più basse in quanto le valutazioni sono molto più alte e timing sì ma è come ha detto giustamente alessandro e questa non è la parte cruciale e timing sulle mie aspettative cioè se io voglio andare in pensione fra dieci anni voglio non necessariamente avere il massimo ritorno possibile voglio minimizzare le probabilità che io non ci riesca ad andare per assurdo se avessi 10 milioni e me ne servono 5 potrei anche elevarli e metterli sotto il materasso e non investirei nulla perché l'inflazione ne mangerà un pochino però arriverei all'obiettivo di avere 5 milioni di valore attuale fra dieci anni quindi dipende dagli obiettivi di vita dipende da dove stai dove vuoi arrivare tu devi prenderti quanto più rischio c'è il minimo rischio possibile che ti serve per gli obiettivi credo se siamo d'accordo e la questione poi è di identificare gli obiettivi e il vero lavoro di un consulente finanziario per come lo penso io è di fare chiarezza sugli obiettivi perché è quella la cosa su cui possiamo lavorare i mercati sono quelli possiamo osservarli possiamo osservarli possiamo poi avere teorie diverse se uno crede completamente all'efficienza dei mercati allora non puoi neanche osservarli li prendi solo come un dato per me non è così per me come ripeto si possono osservare si può dire ora è un eccesso da una parte o dall'altra ora è una situazione in cui non posso dire potrebbe essere non potrebbe essere per esempio in questo momento è una situazione in cui non posso dire ci sono qualche eccesso di qua e là ma non sono eccessi i multipli sono piuttosto alti rispetto i multipli sono piuttosto alti ma non tali che non potrebbero essere diciamo giustificati da un grosso aumento di produttività qui poi potremmo entrare in un'altra cosa dove non siamo d'accordo però forse sulla cosa dei mercati efficienti forse stiamo diventando secondo me è una questione di definizione stiamo dicendo cose simili ma in modo diverso quindi forse anche sull'altra cosa poi piano piano ci troviamo no l'altra siamo troppo troppo distanti va bene vedremo comunque dico in questo momento secondo me non c'è un chiaro eccesso perché quando io parlo di chiaro eccesso parlo di cose che possono generarmi un meno 50 nell'azionario un meno 20 nell'azionario è normale ragazzi bisogna capire le azioni un anno che fa meno 20 non piace a nessuno non piace neanche a me ma è normale sono le regole del gioco il problema è un meno 50 un meno 50 io per recuperarlo è un gran casino e quello devo cercare se posso magari di spendere anche qualcosa per provare di evitare quella cosa se posso oppure ho un altro costo delle put non lo so dei strumenti per i clienti non facciamo opzioni i derivati non possono essere non possono essere oggetti di raccomandazioni quindi le opzioni cioè anche in maniera difensiva cioè comparti una put almeno 20 per legge le opzioni non sono oggetti di raccomandazione non lo sapevo ok e non possiamo raccomandare liberamente da tutti come funziona quando non possono essere oggetto non possono essere raccomandati da nessuno che poi ci sia qualcuno che lo faccia è un altro discorso però non possono essere raccomandati da nessuno gente vende corsi trading su opzioni sì però quella formalmente è istruzione è educazione non è una raccomandazione personalizzata e però comunque al di la ora poi dello strumento tecnico in qualche modo ti costa proteggerti da questo rischio e ti può costare ottenendo una quota più alta in obbligazioni quindi un costo opportunità oppure provando ad uscire prima ma io ti parlo veramente degli eccessi cioè cose che cioè non devi provare a farlo tutti gli anni perché se provi a fare tutti gli anni è tenti di battere il mercato e quello è un giochino che non funziona la finanza è molto intossicata da quest'idea no quando si parla di finanza si dà per scontato che si vuole battere il mercato quello non è non è un gioco non è non non ma non serve neanche cioè alla fine quello che serve alle persone che non hanno chiarezza sui propri obiettivi di vita se tu fai chiarezza sui propri obiettivi di vita ti rendi conto che la finanza è molto più semplice di quella che ci viene raccontata fondamentalmente perché non serve battere il mercato non quando ho battuto il mercato che faccio mi dico bravo mi guardo allo specchio mi dico ah sono bravo e beh cioè che risultato ho ottenuto la questione è che cosa faccio con te insomma bisogna una sistematica di vintage in simons ah sì forse possibile sì forse possibile sì ma siccome se capita capita una volta per botta di fortuna quando mi guardo allo specchio 10 anni per botta di fortuna ovviamente se uno ha seguito un trend c'è un caro amico che è invasato con la tech e batte il mercato da tanti anni perché il tech batte il mercato ho un mio amico che neanche sa che sta investendo che lavora nvidia delle stocks nvidia ha super battuto il mercato da 4 5 anni però non lo sa neanche che sta investendo ci si può può succedere il metagame no siamo in un momento in cui il metagame è tech uber alles e allora si batte anche il ragazzino con con robin hood che ha comprato stock tesla ha battuto il mercato per tanti anni quindi in ogni caso può capitare certo che può capitare per forza nella media può capitare per forza qualcuno deve fare molto peggio qualcuno deve fare molto meglio però sappiamo siamo d'accordo per quello che per quello che dicevamo prima che la teoria dei mercati efficienti non è vero ma funziona nella grande maggioranza dei casi sappiamo che di media è un gioco che non ha senso non ha senso provare a fare ma se io mi concentro sui propri obiettivi di vita che è la parte difficile ed è lì che siamo di questo su questo discorso che mi interessa molto cosa intendi obiettivi di vita e filosofia di investimento e tutto quanto filosofia di investimento è la parte che dicevamo prima è un termine per me tecnico è appunto un termine introdotto da almeno io l'ho scoperto da asova da madoran che è un altro grande andrew low è un grande da madoran secondo me ancora più interessante perché però per le cose che forse a te piacciono di meno cioè che l'analisi aziendale diciamo la questione conosco mio caro amico pietro michelangeli ha fatto i suoi corsi certificato da madoran è citato anche spesso dal mio grande beniamino ben felix quindi conosco molto bene stimo non sono appassionato di value investing però immagino tu invece si tu invece metti anche a studiare bilanci aziendali e a dare valutazione io sono appassionato di aziende di progetti aziendali perché credo che poi fondamentalmente la finanza serva a finanziare cose fisiche no perché noi in finanza spesso abbiamo siamo un po fuori dal mondo no cioè che vediamo le azioni le cose ma poi alla fine se guardiamo nel lungo termine ciò che ci fa rendere è perché le aziende fanno cose producono utili e il gran come sappiamo il grosso dei rendimenti delle azioni derivano dagli utili anche quando vediamo apple che fa che ora va un po meno di moda apple ma per tanti anni è stata di moda apple ciò che ha spinto tantissimo il prezzo di apple è che questo si è ricomprato alle azioni con gli utili cioè sono gli utili che fanno che che danno rendimento fondamentalmente quindi io sono appassionato di vedere le aziende i loro progetti aziendali che cosa fa fare utili alle aziende che sono i bilanci la parte dei bilanci è fondamentale ma è molto più importante secondo me almeno che è molto influenzato anche dalle dalle idee di di da maduran è molto più importante vedere il ciclo di vita dell'azienda i leader la cultura aziendale il modello di business i prodotti che fanno quindi c'è c'è una qualche forma di innovazione di processo tecnologica eccetera e quello mi mi appassiona mi diverte anche questo questo aspetto poi ripeto il grosso nei multipli no aziende spudoratamente gross sono in genere prezzate a multipli più alti e quindi un po è parte della quando quando gli analisti fanno il loro discounted cash flow analysis avranno fattori di sconto e prospettive sugli utili basandosi anche sui prodotti annunciati non ancora annunciati stimati e quindi filosofia di investimento è tutto quel è un po quel termine che dicevamo prima cioè capire ogni investitore a mio avviso dovrebbe farsi un'idea su cosa muove i mercati e avere un portafoglio che sia coerente con questa idea se uno è convinto che i mercati efficienti sono effettivamente efficienti nella realtà è giusto che lui abbia un investimento tendenzialmente passivo deve essere coerente perché la coerenza è qualunque strategia funzione non funziona se è applicata per un arco di tempo sufficientemente ampio questo è coerente con il modello che dicevo io cioè che io che considero ne parla ne parla tantissimo anche ben gli ultimi anche i video di ben felix sono sulla investor retarna versus investment retarna no ecco questo è un concetto chiave questo è veramente un concetto che si parla di battere il mercato ma noi quello che dobbiamo battere è la nostra capacità di prendere rendimenti sul mercato perché lì c'è un'enorme differenza fra quello che il mercato potenzialmente può dare e quello che il mercato che gli investitori effettivamente ottengono dal mercato ne ottengono molto meno ma semplicemente perché sono incoerenti saltano da una strategia all'altra ma perché non si sono formate delle delle convinzioni radicate se io mi formo una convinzione radicata su cosa è possibile cosa non è possibile e allora poi agirò in maniera più coerente quindi la coerenza è assolutamente fondamentale quindi filosofia di investimento è tutto quel quel campo lì che mi interessa tantissimo cioè ci sono appunto io sono appassionato di tutte queste teorie eccetera però magari per molti può sembrare un po aria fritta anche se secondo me poi è estremamente pratico mentre la questione degli obiettivi è la questione centrale cioè è difficile dire per perché io voglio dei soldi perché voglio questo patrimonio e come penso di destinarlo più chiarezza facciamo su questa cosa e più io posso costruire un portafoglio adatto a raggiungere queste cose e quando dicevamo ste io vedo degli eccessi di mercato se io sono in un'ipotesi di bolla se il mio unico scopo è fare più soldi possibile non so perché lì ho un problema esco non esco esco non esco ma se ho chiarezza perché io so che fra cinque anni mi servono tot soldi perché c'è un mio progetto e per me quella cosa importante se io esco e poi i mercati continuano a crescere me ne frego perché io comunque ho ottenuto il risultato che voglio fare e cioè la cosa per cui i soldi erano importanti alla fine sono tutti i percorsi personalizzati quindi la vostra consulenza e prendo la persona gli faccio tirar fuori gli obiettivi ma molta gente non ha idea di cosa vuole c'è vabbè buono non voglio tenere fuori soldi è normale che sia così è normale che sia così ci vuole del tempo per chiarire propri obiettivi ci sono clienti che dopo dieci anni abbiamo chiarito gli obiettivi veramente è chiaro che nei primi anni si fa si fa con con quello che con quello che abbiamo inizialmente magari non c'è nessun obiettivo e si fa un portafoglio così poi piano piano si fa questo io sono appassionatissimo di cose psicologiche con il servizio progetto di vita spesso si fa un test psicologico all'inizio per capire la personalità finanziaria c'è una ci sono nove c'è questa teoria che che sta alla base di questo di questo approccio si prevedono nove tipi di personalità e questo mi serve sia per i tipi cos'è cos'è questa cosa qui quanto quanto pseudoscienza quanta scienza c'è c'è diverso pseudoscienza è diversa una sorta di tarocchi non sono tarocchi non esagerare non si fa una sorta di il bsa se ti piace l'aspetto scientifico il bsa sai che è il bsa il manuale delle malattie no c'è un manuale che codifica tutte le malattie quindi tutti i tipi di malattie il bsa applica questo questo modello però è ovvio che la personalità il modello c'ha un nome questo questo modello che ci sono allora gli psico lo psicologo che che ha diciamo i due psicologi uno era oscar igiazzo che è stato il il maestro di claudo naranco che è stato questo questo psico lui era psichiatra mi sembra mi sembra che naranco fosse psichiatra ma potrei sbagliarmi non mi ricordo se psicologo psichiatra comunque questo questo modello è il modello del l'enneagramma delle personalità e sulla base di questo modello dell'enneagramma delle personalità io insieme ad una psicologa ho modellato il le personalità finanziarie e a me serve per due aspetti questa cosa però quando si parla di psicologia è ovvio che c'è una parte tipo questo no vedere sì ho cercato ok ok allora giusto per e questo mi serve per due cose intanto perché ci sono persone per esempio che amano un tipo di dia cioè il consulente quando deve andare a lavorare sugli obiettivi il tipo di dialogo che te fai è molto importante per esempio tu probabilmente sei un tipo 5 da quello che da quello che vedo e con te dovrei devo parlare di studi devo parlare di accademia devo ci sono altre personalità che se io faccio la chiacchierata che ho fatto con te adesso questi dopo tre minuti li ho persi e lì devo usare altri tipi devo usare un linguaggio in maniera sembrati per la vendita sembrano quasi tecniche per la vendita no sai sono di fronte uno e allora la tutta la comunicazione performativa io non posso non fare una comunicazione performativa o me ne rendo conto non me ne rendo conto eh non 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 lo farò in una live farò il test del negram una prossima live lo faccio una versione una versione modificata da te che tu somministri oppure io io la faccio io la faccio con delle parlando di denaro perché se a un cliente subito vado su una cosa di questo tipo scollegata dal denaro gli può sembrare qualcosa di strano no ma perché questo mi fa delle domande di questo tipo e quindi è tutto orientato a un discorso del denaro collegato alla gestione del denaro infatti la chiamo personalità finanziaria e quindi ecco capire che tipo di personalità ha questa persona mi aiuta poi a raggiungere questa cosa di chiarire gli obiettivi nelle modalità più adatte a quel profilo psicologico lì probabilmente tu avrai un approccio molto più collegato ai numeri molto più collegato a all'aspetto quantitativo quindi diciamo i tuoi obiettivi si possono provare a tirar fuori ragionando su queste strade altri tipi di personalità devono passare da un tipo di comunicazione diversa il primo step è capire la personalità classificare le persone in bucket e adottare strategie diverse per per spiegare fino adesso non è che cambia anche il portfolio non abbiamo ancora se il cliente ha già chiaro l'obiettivo il suo obiettivo è il fire quindi diciamo nel tuo fra le fra chi ti segue è molto questo tema è molto sentito no se l'obiettivo è chiaro è il fire bene impostiamo tutto su questo aspetto chiaro mano a mano poi col tempo magari viene fuori che ci sono anche sotto obiettivi no obiettivi diversi obiettivi che possono essere in contrasto perché poi ci sono questioni familiari figli insomma ci sono ci sono varie questioni da da fare il punto è che servono anni cioè non è una cosa che si fa in sei mesi è perché se si fa in sei mesi è un fuoco di paglia è una cosa se l'obiettivo l'abbiamo chiarito in sei mesi vuol dire che non è l'obiettivo vero ok questo è interessante quindi vuol dire che si aspetta perché c'è chi chiede il casti chiede riassumendo devo sapere cosa voglio avere un'idea di come funzionano i mercati e prodotti finanziari quindi a che mi serve il consulente consulente riserve perché ci mettiamo un bel po a capire tutto quanto a fare questo percorso ma ripeto io io ho se quando ho iniziato a investire informati alessandro sostiene anche è molto felice di un futuro business model fee only nel senso ok facciamo un percorso assieme poi se vuoi vai per conto tuo certo cioè l'obiettivo centrale dovrebbe essere questo dovrebbe essere che quando quando il cliente si è chiarito i suoi obiettivi ha capito il modello eccetera faccia da solo certo perché dovrebbe continuare a fare un consulente io sono felice devo dire che sono pochi clienti che poi e questo mi devo fare delle domande nel senso magari non sono sufficientemente bravo però ci sono dei clienti che hanno detto benissimo alessandro finito il percorso magari ci sentiamo una volta all'anno se ho dei dubbi benissimo io sono sta felice ho raggiunto il mio obiettivo altri naturalmente io lavoro tendenzialmente con clienti molto molto facoltosi e tendenzialmente loro come preferiscono comunque avere un occhio un occhio diciamo attento no per perché poi magari c'è anche complessità di rapporti con vari intermediari cose eccetera però il cliente medio piccolo diciamo sotto il milione di euro tendenzialmente più fa da solo e meglio è cioè io sono e credo che la finanza è più o meno alla portata di tutti se uno ha un po' un approccio di studio è più o meno alla portata di tutti tendenzialmente un consulente può dare l'abbrivio cioè può avere timore no praticamente una rehab c'è chi dice vai lì ti fai ti ripulisci fai ha più che altro una una sorta di dieci giorni di vi passa una meditation retreat quella è pesa è quella è pesa 10 giorni non voglio di farla ma c'ho tre bambine piccole quando cado dovrei dovrei divorziare vorrei farlo tu so che sei anche amante di questo ma non so se ci riusciamo ad arrivarci oggi perché mi interessa ancora siamo su questi argomenti però poi alessandro è un meditatore professionista se non sbaglio no 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 non usare questo termine perché è uno simoro no diciamo quindi che il percorso di vita consiste nel racconto poi diciamo un po servizio che voi offrite ripeto non è un endorsement non è pubblicità questa non è una live pagata da nessuno sono curioso di capire un po bene in cosa consiste il percorso di vita cioè tu che è un servizio che voi offrite quindi prima c'è una sorta di identificazione diciamo capire la personalità poi dopo allora intanto c'è da fare una premessa noi abbiamo creato questi due modelli ma ogni ogni caso è diverso dall'altro cioè il professionista cerca di capire chi ha davanti e adatta il servizio sulla base di chi ha davanti quindi non c'è un modello standard non c'è un modello standard per cui questo è il percorso e si fa così il percorso c'è una traccia di percorso e lo scopo fondamentale la differenza grande fra finanza trasparente il progetto di vita che finanza trasparente è tendenzialmente un asset allocation è uno schema abbastanza centrato che è quello che ho provato a descrivere anche qui con molte personalizzazioni ma sostanzialmente un asset allocation mentre in progetto di vita l'obiettivo è proprio quello di definire il progetto cioè di definire insieme gli obiettivi di fare una parte di formazione affinché il l'investitore sia più consapevole più consapevole l'investitore e più può anche sfruttare i mercati finanziari in maniera più vantaggiosa proprio perché ha più conoscenze e più competenze quindi c'è tutta una parte di formazione e c'è quindi si definisce un documento di politica di investimento quindi si scrive proprio un documento dai questo mi piace questo me lo concordo si scrive insieme questo documento di politica di investimento insieme nel senso che da queste varie tendenzialmente sono almeno tre quattro incontri parecchio approfonditi con vari tipi di questionari che non è solo il questionario mifid che dobbiamo fare perché per legge dobbiamo fare questionario mifid ma qui facciamo questionari molto più approfonditi oltre a quello psicologico se il cliente vuole fare anche questo tipo di indagine su che tipo di personalità finanziaria però facciamo un questionario molto più dettagliato sui suoi redditi le sue spese gli immobili i suoi tutto i suoi obiettivi dal punto di vista qualitativo abbiamo un modello su quattro su quattro voci cioè quattro grandi macro categorie di obiettivi e quindi sulla base di questo cominciamo a scrivere un primo documento di politica di investimento sapendo che è un percorso quindi qui ci vorrà un po di anni per affinare poi questa cosa perché inizialmente viene uno dice che obiettivi ho nessuno ho 10 milioni di euro tutto quello che posso fare lo posso fare che obiettivi ho nessuno va bene allora intanto vogliamo mantenere il patrimonio dall'inflazione sì ok ci diamo un primo piccolo obiettivo ok però piano 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 e il mio compito è anche quello di pungolare l'idea di dire ok bene oggi quest'anno è andato così i mercati bene siamo contenti ma che ci vogliamo fare con questi soldi psicologico nel senso che deve essere un contatto non dico settimanale però con che frequenza vedi le persone con che frequenza interagisci con le con i tuoi clienti allora se vedi me se vedi i miei whatsapp sono pienissimi di vocali io quando vado a fare le mie camminate le me lo so purtroppo sei vittima sei stato vittima anche te di questa cosa però sono vittima anch'io nel senso che diciamo dando questo input ai clienti a loro volta giustamente mi massacrano di vocali che però per me sono sono belli perché sono occasioni di conoscersi e sono occasioni di fare questo lavoro perché come capisci è prevalentemente un lavoro psicologico cioè la parte tecnica è fondamentale no ieri in un webinar che dicevo mi è uscita non so come sta metafora che dicevo la parte tecnica sono le fondamenta della cosa ma le fondamenta di una casa non la vedi ci devono essere perché sennò tutto il resto della casa va va a marengo ci devono essere il lavoro e finanza comportamentale il lavoro il vero lavoro è psicologico il vero lavoro è una parte non tecnica e quindi questo relazione questa relazione è ovviamente io posso avere pochi clienti io non so come fanno ci saranno i consulenti che hanno centinaia di clienti ma io centinaia di clienti personalmente non li posso seguire non questo lavoro non lo puoi fare puoi fare con un ordine grandezza di 20 30 clienti se sei proprio bravo bravo 40 ma secondo me 40 a questo livello non si può fare e tu hai detto c'è un po di un piccolo cortocircuito se non ti dispiace che i clienti a un certo punto quando raggiungono una certa autonomia se ne vanno se c'è un charn rate non zero non puoi vivere con pochi clienti devi avere un riciclo di avere un nuovo agente che entra certo sì infatti come trovi nuovi clienti la grande maggioranza è per chi ha letto i miei articoli che scrivo da vent'anni poi qualcuno sono altri clienti che passa parola che passa parola ma relativamente poco questo perché la mia esperienza ho visto che le persone non non parlano volentieri del fatto che hanno un consulente indipendente perché da un po l'impressione che allora sono uno ricco diciamo è un po in italia l'aspetto del patrimonio non c'è non è come gli stati uniti dove è semplice parlare del proprio patrimonio no però qualcuno capita anche in questo modo e recentemente devo dire che dal 2018 in poi con l'avvento dell'albo la stampa ne parla di più dell'idea degli indipendenti io mi ricordo nel 2000 spiegare che facevo il consulente indipendente almeno serviva un'ora a capire che cosa voleva dire perché era era talmente avulso la cosa perché ma che ma quindi lavori per le banche no ma anzi sono l'opposto delle banche ma allora scusa se in finanze l'opposto delle banche c'è qualcosa che non capiscono cioè non era proprio ipotizzabile dopo il 2018 se è molto di più conosciuto questa cosa quindi sono delle persone che ancora è una grandissima minoranza nel senso che la nostra grande maggioranza della della diciamo della consulenza tutto quello che significa è ancora in mano a banche reti sì ma noi siamo nell'ordine dell'uno per cento forse forse stiamo scavallando l'uno per cento ma siamo sempre insignificanti come masse fondamentalmente e numeri di clienti ok teresa ricordo che tu mi hai contato la prima volta ormai quasi un anno fa ho cercato la prima mele quasi un anno fa mi hai anche proposto mi piacerebbe provare a fare con te in live verso di te giorgio eh un sorta di progetto di vita eh potrebbe essere interessante magari per una prossima live potremmo non so poi cosa comporterebbe però potrebbe essere interessante vediamo 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 volevo ok su tanti argomenti non abbiamo toccato diciamo che vorrei tenere l'argomento caldo sulla sul sul futuro dei mercati e sulla tecnica per eventualmente un altro incontro bene mi interessavo per andare verso la conclusione se avete qualche domanda ragazzi fatele pure o o qualcosa io non me le sto guardando perché sono appassionato a rispondere e non mi guardo ma ce n'è tantissima chiaro ne ho ne ho sapete ne ho salvati alcune ma sono molto sono molto obsolete domande successe domande di molto tempo fa questo potrebbe essere interessante è generica come si imposta l'asset allocation di un soggetto che non ha apparentemente obiettivi come si come si inizia senza sapere la tolleranza al rischio allora magari sai perché hai fatto il mifid però il mifid è una sorta di giocare a poker con le fish finte quindi ok certo allora in finanza il termine obiettivo ho classificato il concetto di obiettivi come vi ho detto di obiettivi di vita ma tipicamente in finanza quando si parla di obiettivi è un obiettivo di rischio rendimento cioè tendenzialmente viene classificato vuoi vuoi essere più prudente quindi punti a proteggere il patrimonio il valore nominale tendenzialmente oppure punti a proteggere il valore reale quindi devi comunque inserire un pochino di oscillazione oppure punti a far crescere il patrimonio e questa è una prima classificazione di base classica della finanza quindi se non abbiamo nessun obiettivo di vita si parte da lì tendenzialmente con un dialogo qualche obiettivo di vita viene sempre fuori magari non è così forte cioè perché non bisogna solo avere un obiettivo bisogna avere un obiettivo in cui veramente ci sa un engagement personale perché io posso dire voglio essere fire ma in realtà non me ne frega niente oppure è soltanto un sogno così ma so che è realistico oppure posso dire posso dire che per me questa cosa è veramente diventata una cosa importante abbastanza recentemente un cliente fantastico che ho da non tanti anni una delle cose che mi ha fatto più più felici e che mi ha detto ok ora ho veramente sentito che questo è un obiettivo che mi muove mi ha mandato un vocale proprio dicendo questa cosa e lì ho detto ok ho fatto uno step di consulenza importante perché lui ha sentito che questa era la cosa che gli muove e ora le nostre conversazioni sono molto più produttive perché sono orientate a un qualcosa di concreto che a lui lo muove e quindi un esempio concreto di obiettivo di vita ma è non specifico a nessun tuo cliente ma un esempio concreto di obiettivo di vita che impatta una scelta di allogazione ad esempio diciamo ci sono sostanzialmente ci sono diverse cose ma quelle più più forti sono o orientati agli affetti quindi questioni legate ai figli questioni diciamo alla moglie questioni legate sostanzialmente agli affetti qualcosa che è importante per questo tipo possono essere situazioni cui ci sono malattie situazioni cui ci sono figli problematici diciamo tutta quella sfera tutta quella sfera lì o situazioni legate al lavoro ma inteso al lavoro personale cioè l'idea di smettere di lavorare sostanzialmente è una cosa che prende molto cioè l'idea di più che smettere di lavorare è l'idea di dire voglio poter scegliere se lavorare o meno che è molto importante in genere le persone qualcuno si ma la maggioranza delle persone in realtà non è che vuole smettere di lavorare semplicemente non vuole avere l'obbligo di lavorare cioè vuole poter lavorare scegliendolo financial independent e questa è un'altra cosa e questa è un'altra sfera declinata in tante versioni ma un'altra sfera e poi ci sono le questioni legate al lavoro ma inteso come azienda quindi inteso come come passaggi generazionali intese come quale sarà il futuro della mia azienda oppure devo far fare dei salti di qualità alla mia azienda quindi diciamo legate al lavoro ma non al mio rapporto con il lavoro ma a un lavoro che già è buona parte della mia vita ma ha bisogno di modifiche importanti più o meno sono queste le tre aree dove ho visto che gli obiettivi sono più 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 forti poi c'è quello che mi piace più di tutti ma è decisamente minoritario gli obiettivi che sono obiettivi di beneficenza quindi sono l'idea di dire io voglio che i miei soldi i miei investimenti che per varie ragioni magari non sento mia non sento diciamo non sono attaccato a questo aspetto ma voglio che facciano o meno male possibile al al mondo o magari possono fare più bene e questo ho pochi clienti che hanno questa cosa forte forte ce n'ho soltanto uno e con lui stiamo forti di beneficenza l'obiettivo è massimizzare vogliamo massimizzare il rendimento per darlo in beneficenza ok interessante bisogna vedere se si concretizza però interessante c'è prendo l'ultima domanda tecnica e dice in termini tecnici di portfolio construction alessandro usa un classico markovitz uno su n rispariti allora uno su n no perché asset class essenzialmente è soltanto quella azionaria mi sembra di aver capito allora e questo forse è un altro punto di di forte diciamo punto di vista diverso rispetto a te ma forse anche questo forse se poi approfondiamo perché quei quegli accenni che abbiamo fatto sull'ergodicità o meno eccetera forse ci portano in un campo vicino io sono estremamente critico estremamente critico verso l'uso della statistica della matematica in finanza credo che sia sbagliato concettualmente i miei punti di riferimento da questo punto da su questo aspetto sono essenzialmente definetti io ho avuto diciamo la fortuna in qualche modo di incrociarlo definetti in gioventù definetti probabilmente un'altra persona che è semi sconosciuta ma è una persona che dovrebbe essere molto più conosciuta di quello che che è in finanza attualmente e io sono convinto semplicemente che non ci sono i presupposti tecnici per applicare la statistica e siccome i mercati non sono rischiosi cioè il problema dei mercati non non è la deviazione standard ma è l'incertezza parliamone cosa parliamo in un contesto incerto funzionano meglio tecnicamente le euristiche rispetto all'applicazione statistica e quindi l'approccio col quale costruisco i portafogli sono euristiche cioè è un approccio essenzialmente di buon senso io sono convinto che markovic semplicemente siamo un po più in conflitto anche perché ma mai riscopriamo fra due ore che non vogliamo starci due ore che non ce l'abbiamo scopriamo diciamo la stessa cosa ma dubito questo questo qua tu parli di incertezza e non di volatilità slash rischio cosa intendi esattamente allora frank knife hai presente il frank knife è un economista che ha diciamo dato questo concetto di definizione differenza tra il rischio e incertezza il rischio è quando tu non sai una cosa ma conosci la distribuzione di probabilità ok quello che noi modelliamo se io lancio un dado io non so quale faccia verrà ma so che ne va in una delle sei posso definire distribuzione robita quindi io posso calcolare lì io la statistica la posso ma se io lancio un dado e quando torna quel dado può essere di 6 di 20 di 30 di 40 facce perché magicamente nel lancio mi ritorna un dado diverso a quel punto non ha nessun senso che io faccio statistica dici questo perché teoricamente i ritorni sui mercati non sono lanci di dato ma perché non sono valori beh da meno 100 a più infinito abbiamo un range ce l'abbiamo modellarli come non è un range e come sai in finanza non si considera questo range ma è chiaro beh già 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 se fa più più 200 per cento in un anno che è già assurdo lo posso considerare approssimabile a più infinito però 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 sai che nei markovitz non mettiamo quel tipo di formule nei markovitz ci prendiamo quando prendiamo noi prendiamo una distribuzione in un periodo storico poi possiamo fare la stima del rendimento la possiamo stimare o la possiamo prendere storica ma tendenzialmente la volatilità la prendiamo in un periodo ma noi sappiamo che quella volatilità non è quella che si realizzerà cioè semplicemente ci prendiamo per i fondelli quando usiamo questi modelli ci prendiamo per i fondelli semplicemente cioè è proprio tecnicamente assurdo però lo usiamo perché perché è più semplice perché dà un'idea di se uso un formulone allora è uno che ho capito è meglio di nulla è meglio l'alternativa è dire boh l'alternativa è per esempio ma tutto tutta la teoria dell'euristica in un concetto in un contesto incerto se io che dice dice andrea ho visto prima un messaggio andrea andrea dell'invest dice si stima anche la volatilità non è assurda si può stimare certo certo sì sì tendenzialmente si prende allora se si è tutta una stima è una stima e allora va bene è una stima stimo una volatilità di tot è tutta una stima e può andare bene ma comunque sia sappiamo che non sarà quello che succede nel futuro dicevo la l'approccio diverso è quello se io ammetto se io so di non sapere quindi diciamo l'incertezza quindi abbiamo detto il rischio è quando io non so una cosa ma conosco la distribuzione di probabilità l'incertezza è quando non so che cosa non so cioè non solo non so una cosa ma non so nemmeno che cosa sono che può impattare significativamente e quindi ci sono delle cose che io non semplicemente non conosco nella nostra vita tendenzialmente facciamo così ma quando tu ti sei sposato hai fatto un un'analisi dei costi benefici hai fatto una statistica è vero è vero è vero cioè sto tornando a rileggere design your life in cui va la differenza tra problemi di design problemi di ottimizzazione ho studiato un po' del codice bravissimo quello è il punto la finanza non è un problema di ottimizzazione è un problema di design è questo il cuore che io sto cercando di portare avanti è questo non è un problema di ottimizzazione perché cercando di ottimizzare peggioriamo le cose perché non è ottimizzabile è un gioco di incertezza non di rischio se continuiamo a parlare di risk management in finanza vuol dire che non abbiamo capito le basi non abbiamo capito la finanza sai però perché mi sembra ho qualcosa che non mi torna perché può sembrare un buon modo per dire vada sensazione e poi se va male vabbè non è colpa mia questo mi sembra se vuoi dire veramente tutte le cose si possono fare bene o male è ovvio che io posso applicare una cosa corretta in maniera completamente sbagliata anche quando prima ti parlavo io analizzo il profilo psicologico dei miei clienti se lo vogliono è chiaro che io lo posso posso usare quella cosa contro di loro è possibile c'è chiunque può fare chiunque può fare una comunicazione forbiante poi un professionista ha una sua etica professionale e per quello che dai professionisti bisogna anche vedere chi sono come esseri umani eccetera quindi è chiaro che si può fare in maniera sbagliata design your life il libro d yl lo trovate cercate ovunque quindi per rispondere alla persona io non applico non applico matematica è chiaro che i fondamenti ci devono essere no quindi una diversificazione sensata è chiaro che poi si applicano anche le cose classiche della finanza ma non sono quelle che ci guidano per me i classici portafogli che usano tutti alla marcoviz sono sono veramente diciamo è un indice che una persona non ha una filosofia di investimento che ha minimamente capito come funziona realmente la finanza e so che la grande maggioranza tutto un po' come una un 60 40 sta bene su tutto non è che sbaglia particolarmente uno che si come un vestito grigio come un vestito grigio ci può stare certo l'alternativa ovviamente è molto più complicata perché richiede richiede come dire se non ci fossero gli etf market cup weighted come la implementeresti nella strategia del genere cioè andresti molto più difficile da utilizzare certo certo ma perché perché funziona marcoviz marcoviz e compagnia perché è molto più facile si dà impasto a un computer le cose si ha l'illusione di avere una cosa ed è più è molto più semplice applicarla rispetto invece andare a capire ok ma cosa ti servono i soldi nella vita come è il tuo approccio fondamentalmente la questione è in finanza ci sono queste due grandi forze da una parte vorreste avere rendimento da una parte vorresti rischiare il meno possibile è una questione psicologica non è una questione matematica è molto semplice è una questione di bisogni umani non è una questione matematica prospettarla come una questione matematica è una semplificazione più facile può funzionare se uno si accontenta così va bene cioè la grande maggioranza farà così e mi va benissimo se 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 un mio cliente vuole una cosa molto più profonda a me fa piacere andare a lavorare su una cosa molto più sensata che appunto sono gli aspetti psicologici ok qui alespucci dice però prima hai detto che cerchi di prevedere grandi crolli sembra decisione a sensazione da dove scudi la matematica e la statistica euristiche più che sensazione un livello sopra non è tipo gut feeling ma si parla di euristiche e quindi rule of thumb essenzialmente ok ok bene ci devo pensare un po su alcune cose che hai detto sono interessanti sarei giusto così per concludere l'aspetto diciamo di portfolio construction ti trovi ad usare anche azioni singole basate su per i due clienti basate su studio su altre euristiche o su domanda vera è come fai a non essere troppo bias sulle due convinzioni perché andare andare di efficient market andare diciamo di prenderti il mercato in modo anche per dire ora io non ne so proprio niente non nessun bias se tu ad esempio fossi super convinto che tesla dovvinerà il mondo per la tua convinzione magari rischi di mettere in portfolio e poi dopo se non si avvera dire ho scelto un'euristica però kit se in cula scusa il termine scelto di pancia se adotti euristiche come 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 stai attento ai tuoi bias e come e come operi intanto bisogna precisare che euristica cioè scegliere tesla non è un euristica cioè scegliere test le euristiche sono sulla sulle regole di costruzione del portafoglio ad esempio quando ribilancio cioè qui quindi qui si parla sulle strutture l'idea è se io ribilancio perché marco bis mi dice che mercati emergenti devono stare al 18,7 per cento oppure se invece io dico semplicemente che come euristica credo che mettere un quinto del mercato azionario mondiale nei paesi emergenti sia più sia sensato per per tutta una serie di considerazioni fattuali e allora metto un quinto e un quinto è un quinto un quarto un terzo ma la differenza tra le euristiche è marco vizzi mi dà un numerino sulla base della matematica l'euristica invece dice un quantitativo approssimato che è molto diverso da scegliere però devi definirla tu devi stabilire tu quant'è questo numero che domani è diverso però tesla invece è una questione estremamente specifica di scelta di singolo titolo io l'idea dei mercati emergenti io posso avere diversi parametri che posso prendere per esempio posso pensare l'impatto sul pil può avere un senso di decidere i mercati emergenti sulla base dell'impatto sul pil oppure posso prendere la capitalizzazione vado sulla capitalizzazione e quella è però non vado a applicare una formula matematica che mi prende la volatilità e mi tira fuori un numerino con le virgole che non ha assolutamente nessun senso quindi questo è il discorso sul discorso dell'uso dei singoli titoli allora tendenzialmente il grosso del portafoglio deve essere estremamente diversificato in etf e deve essere tendenzialmente noioso proprio perché so di non poter prevedere nessuno può prevedere eccetera però l'uso dei singoli titoli può avere un senso sia di tipo psicologico perché comunque siamo esseri umani e può far piacere avere il singolo titolo che fa di più del mercato eccetera quindi ci può essere un elemento psicologico e allora è bene sapere che c'è questa cosa e fargli fare meno danno possibile e quindi avere questo aspetto oppure i singoli titoli possono avere una funzione educativa cioè far sperimentare la volatilità e fare in modo che vedendo un eccesso di volatilità ci si abitua di più per avere poi la volatilità sul grosso del portafoglio su portafogli estremamente diversificati quindi c'ha una funzione educativa e una funzione psicologica di soddisfacimento di un certo tipo di necessità. Questo è una cosa che piace anche a me nel senso che cioè noi siamo un po come dire magari rischiamo che l'investimento super noioso ci possa far venire tentazioni di essere un po più gambler e quindi diciamo ci concediamo un po di gambling o un po di votare col proprio portafoglio tipo mi piace questa azienda me la prendo perché mi appartiene mi da identità e così via con una quota contenuta del proprio portafoglio o con un portafoglio dedicato apposta ma è di più piccolo come antidoto come modo per tenerci come sedativo essenzialmente sì poi ovviamente si cerca di fare il massimo lì però sapendo che è più o meno sostanzialmente un fun learning money money sì sì è una sì sì fun learning money giusto grazie Damiano che ha anche pagato per fare questa domanda grazie per il super hai mai implementato prodotto modelli più sofisticati come french famo black litterman penso di poter rispondere io che non credo come ti dicevo sono esattamente è esattamente l'approccio in cui non credo ma ripeto non credo non perché non credo a caso io dal 2000 al 2008 era un super nerd di queste cose cioè non è che non è che non credo perché semplicemente mi sono convinto così cioè io le ho sperimentate veramente su di me ma applicando le provandoci strettamente studiando le strettamente semplicemente sono giunto la conclusione che sono matematicamente insensate e uno studia bruno definetti bruno definetti aveva ha influenzato marcovitz poi qui ci sono varie ricostruzioni marcovitz diciamo marcovitz stesso l'ha scritto se vedete c'è un paper di marcovitz dove lui in qualche modo diciamo si difende ma con molta onestà perché estremamente onesto intellettualmente però sostanzialmente definetti era arrivato molto prima la formula di ottimizzazione di portafoglio ma semplicemente sapeva che era insensata perché era un grandissimo statistico e diceva ok si potrebbe fare se non fosse la finanza infatti veniva dalle assicurazioni quindi è semplicemente insensato ragazzi purtroppo ci sono so che sono dei claim molto forti però ci sono dei fondamenti nell'economia e della finanza che sono estremamente traballanti il valore atteso come probabilmente sai il valore atteso è insensato sul piano statistico il concetto di valore atteso per il problema dell'ergoticità o meno e sappiamo che non c'è ergoticità in finanza il valore atteso è un riferimento che se noi lo usiamo è forbiante perché il valore atteso della media ma noi non saremo mai la media problemi non ergotici la media temporale non è la media spaziale nel senso tu hai detto questa cosa che probabilmente il 99 per cento non l'ha capita non l'ha capito che hai detto e però è estremamente significativa non è una cosa di poco è una cosa di poco c'è anche un bellissimo articolo di ben carson qualche giorno fa che non parlava di ergoticità ma che l'ho riconnessa allo stesso quanto più debito prendi più diventi sensibile a fluttuazioni è un po come dire se vado in leva prima o poi moltiplico per zero no matematicamente è lo stesso problema è la stessa cosa infatti il problema della non ergoticità si si risolve con con il money management no nei trading in teoria si risolve per money management si risolve con Kelly Criterion oppure semplicemente strategia la Taleb sì qui stiamo andando nel troppo nerd secondo me troppo troppo nerd comunque il concetto è quello ok bene diciamo che ci abbiamo penso abbiamo dato abbastanza abbastanza contenuti per per studiare per i prossimi anni per il mio pubblico è un po è un po è già di cosa è l'ergoticità bene ne parleremo un'altra volta probabilmente voglio assolutamente mi piacerebbe far vedere un bel foglio di calcolo e fargli vedere vedete con questa scommessa avete il 60 per cento di probabilità di azzeccarci la volete fare sì sì come no ecco perderete sempre mi piacerebbe farlo vedere perché tutti quelli che fanno trading e che sono convinti cioè non capiscono le basi matematiche della roba cioè non capiscono la roulette russa no il gioco della roulette russa esattamente vabbè insomma ti consiglio i lavori di Luca Dell'Anna che ho anche intervistato tre anni fa ha scritto un bel libro su ergoticità ha fatto tantissimi farò avviso al mio pubblico è molto meglio eh scusa se te lo dico ma vai al punto devo devo leggerlo ancora perché sto molto molto in fissa con il concetto di ergoticità ultimamente e allora vai su ole peter tutta la vita vai su ole peter tutta la vita vedi che un bellissimo lui è uscito con un bellissimo articolo su nature physics cioè non su baobao miscio cioè su nature physics e sta nel 2018 mi sembra e sta cambiando un po piano piano queste sono cose che poi arriveranno fra vent'anni probabilmente nell'uso comune no però questo sta cambiando il concetto di economia proprio per questo per questa problematica sì parliamo di questa roba qua ergoticità economics sì credo sì ok bene penso che siamo ma noi vogliamo l'easing è certo l'easing qui si va sui sui etf in altri ambiti vogliono proprio direttamente il titolino che fa diventare ricco esatto ora dopo vado a tirare a riprendere la sfera di cristallo e vi do qualche numero alessandro è stato un grande piacere un grande piacere so che abbiamo molti più punti che ci accomunano che ci separano per alcuni claim che fai mi lasciano un attimo basito e devo 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 fare un reframing per vedere se possono matchare il mio modello esistente o se devo derubricarli a no questa questa è una strada troppo grossa però avremo modo di confrontarci ancora in parte della filosofia cioè secondo me la chiave è quello che si diceva però il tuo disdegno per la matematica non lo riesco ad accettare il tuo disdegno per gli aspetti matematico statistici non riesco ad accettare ok la non energodicità però non stiamo giocando a roulette russa qui cioè per me 150 250 anni di storia anche gli ultimi studi di sederburg non so se hai visto gli episodi di rational reminder con studi su 150 anni diciamo che tutto è non ergotico il pianeta esploderà ma lo sai in essere vivente si può considerare anche attraversare la strada non è ergotico nel senso che prima o poi mettono sotto se si è attraversato un miliardo di volte però nel corso di un lifetime si può assumere che sia ergotico ma secondo te i mercati degli anni 20 sono qualcosa di sono rilevanti sono rilevanti sono rilevanti sono rilevanti chiaro probabilmente no stai mettendo insieme mele con pere o mele con mele chiaro chiaro e fino a dove arriviamo anche pre dot com era un altro mondo si può darsi però sicuro che ci stiamo stabilizzando anche i tassi di interesse all'inizio fluttuavano in maniera criminale però io non dico che non dobbiamo guardare la storia che dobbiamo andare a caso io dico che la storia insegna è una maestra non si ripete mai uguale quindi noi dobbiamo conoscerla bene ma per farsi un'idea non per prendere la statistica perché la statistica ci dà una finta illusione noi dobbiamo accettare cioè il problema l'aspetto per io capisco che ti dà noia perché effettivamente anche a me ha dato parecchio noia a me è servito il 2008 per la legnata del 2008 guardate che vivere le banche che crollano quando tu hai cliente da quelle banche è veramente una chiaro ma diversificata tutto il mercato è stata una roba simile alla dot com un po' peggiore però no ma tu l'hai vissuta in prima persona non ero investito in quell'epoca a quell'epoca noi si pensava che finisse il mercato finanziario cioè che finisse il mercato finanziario di per sé capisci cioè non che io ho l'obbligazione di Lehman Brothers e mi pesa il 2% l'1% il portafoglio cioè noi lì si viveva la grande crisi finanziaria si pensava che finisse il sistema finanziario e c'è stato un periodo in cui veramente l'abbiamo pensato però non sappiamo che si uscite a vendere i titoli non so neanche dove venderli certo cioè le banche di per sé non si fidavano non si fidavano di per sé ad avere contrattazioni fra l'ora e quindi dicevo è dura perché è dura da accettare che il mercato è incerto e allora abbiamo bisogno di un appiglio perché se l'ho fatto con una formula è più vero che se ho stimato e ho detto il 15% ma è un 15% a casaccio non è a casaccio è con delle informazioni incomplete perché il gioco è un gioco a informazione incompleta la teoria dell'informazione la teoria delle decisioni questo ci dice però accettare che siamo ad un gioco con informazioni incomplete è molto più duro e tutte le piccole informazioni in più che ci appaiono migliori le prendiamo perché è meglio quello che sapere che non ne abbiamo questo è un po' il punto però capisco che è dura io ci ho messo tanti anni a fare questo switch mentale ok Alessandro bene diciamo che andiamo a nanna andiamo a nanna poi in futuro magari faremo altre puntate con altre tematiche mi piacciono questi confronti relativamente io spero di essere stato di aver dato degli spunti anche alle persone non so io ho chiacchierato a ruota libera seguendo un po' il tuo flusso e seguendo un po' le mie passioni magari sono convinto che sarò stato abbastanza confusionario e tante persone saranno rimaste un po' diciamo ah no la gente è qualcuno che non è che come dire che più di me ha reagito dicendo no non è vero non è possibile tutto quanto però a molti penso che ha stimolato ha stimolato sarebbe bello vedere Alessandro eh magari la prossima puntata ne invitiamo anche Paolo eh sì vediamo un confronto in cui posso mettermi in mezzo io e vedere devi rinvitarle un grande e così via chi ti vuol trovare dove ti trova ti trova sul linkedin ti trova sì sì sul linkedin sì sì oggi con internet mettete nome e cognome consulente finanziario trovate un mare di roba anche troppo vi verrò a noia presto leggendomi purtroppo sono molto prolisso quindi vi verrò a noia presto ok ah diciamo questo è il sito di Tecta no 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 leva 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 tanto lo trovo non è pubblicità l'abbiamo detto però almeno è il nome della la tua SCF perfetto grazie a tutti quanti per aver bene Alessandro e Coletti insieme altro che due le settimane di live grazie a tutti grazie io sto morendo ci vediamo domani pomeriggio grazie Alessandro ciao ciao a tutti grazie a tutti